Stagione turistica in astre di partenza dalla prossima settimana la riapertura di gran parte delle strutture alberghiere. Bandiera blu non riconfermata, il sindaco di Cannobbio Minazzi annuncia ricorso alla FE e intanto parte la stagione balneare in Piemonte. La vicenda della chiusura di via Titosperia o Megna interviene la minoranza e i residenti raccontano i loro pesanti disagi. Temporaneamente vietata ai climber, la falesia di Colloro a tutela dei nidi dei rapaci che potrebbero essere disturbati dagli sportivi. Presentati gli eventi dell'estate 2021 a Baveno per tutti i gusti, l'amministrazione strizza l'occhio ai giovani. Domani alle 18 prendono il via i playoff della Paffoni, la Lega non concede la diretta TV, partita indifferita alle 20.30. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia. in apertura di giornale la stagione turistica estiva. I nastri di partenza la prossima settimana, dalla prossima settimana a fine mese, la riapertura di gran parte delle nostre strutture ricettive. Le previsioni del distretto turistico sono per una buona estate. La prossima settimana riaprono gran parte delle nostre grandi strutture ricettive sul Lago Maggiore, al momento pochi gli alberghi già in attività. I nostri operatori turistici si sono organizzati e sono pronti, riferisce il presidente del distretto turistico dei laghi e delle valli, Francesco Gaiardelli. Lo stesso aggiunge, il mercato straniero è sempre attento ed affezionato alle nostre località e non vede l'ora di tornare. In Pol, svizzeri, tedeschi, olandesi, gli indicatori ci segnalano per giugno e luglio presenze importanti. C'è un ragionevole ottimismo. Un polso della situazione che arriva dopo tre giorni di Borsa Internazionale del Turismo e l'importante promozione della nostra destinazione sul sito Enit. Una lenta riapertura a maggio e un'estate piena e ben fatta è dunque quanto descritto dal presidente del distretto. Resteranno in sofferenza le grandi comitive per le note normative anti-covid. Si attendono le nuove decisioni sul coprifuoco che potranno incidere non poco sulla scelta della vacanza. Nelle valli ossolane resterà il ruolo importante di quel turismo di prossimità che si cerca ora di attrarre però anche nelle località lacustri. Dalla piana di Vigetto annunciano la partenza della stagione sabato 29 maggio con cabinovia in funzione tutti i giorni e proposte all'insegna delle attività outdoor, e-bike, mountain bike, trekking e tante attività in tutta sicurezza e all'aria aperta. Non mancheranno ovviamente le specialità inogastronomiche. Ricordiamo segno positivo per il settore turistico la firma nelle scorse ore dell'ordinanza del ministro Speranza per l'ingresso dai paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen oltre che da Gran Bretagna, Svizzera e Israele con tampone negativo senza la mini quarantena di cinque giorni da domani 16 maggio. Un via libera che purtroppo non risolve però il nodo dello shopping di confine evidenziato da Confcommercio e dal sindaco di Cannobio Minazzi. Difficile pensare che le persone si sottopongano al tampone per venire a fare la spesa, per una visita al mercato, per un pranzo o una cena nei nostri locali. A Cannobio anche il problema degli affetti con tante famiglie che hanno i parenti al di là del confine. E passo in avanti nell'iter per l'assegnazione dei ristori previsti dal decreto sostegni per risarcire la filiera turistica della montagna dei mancati incassi di quest'inverno a causa della pandemia. La conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato il riparto dei 700 milioni stanziati dal governo per questo settore. Al Piemonte spetteranno circa 18,8 milioni di euro per le imprese di beni e servizi e circa 8 milioni per gli oltre 3.000 maestri di sci del territorio piemontese. Sarà la regione a erogare le risorse, mentre i fondi per gli impianti sciistici saranno erogati direttamente dallo Stato sulla base dei dati dell'Agenzia delle Entrate. Le risorse nazionali si aggiungono a quelle già stanziate dalla regione Piemonte nei mesi scorsi. E al via da oggi la stagione balneare in Piemonte. Sono 79 le spiagge che hanno il via libera da arpa per la qualità delle acque relative alla balneazione. Di queste 45 hanno ottenuto la classificazione di eccellente. Nel complesso il 97% delle spiagge ha centrato l'obiettivo imposto dalla normativa europea. L'assessore all'ambiente Marnati commenta, sono convinto che molti turisti si riverseranno in Piemonte in una stagione all'insegna della ripresa. New Entry è la località Vevera ad Arona, inserita tra le spiagge balneabili al termine dei lavori di adeguamento alla rete fognaria in prossimità della costa e dove lunedì scorso è stato fatto il primo campionamento con esito favorevole. I punti sono distribuiti su sette laghi, Maggiore, Orta, Mergozzo, Viverone, Avigliana, Sirio e Candia e due torrenti Cannobino e San Bernardino. 24 spiagge eccellenti, la maggior parte sul Lago Maggiore, 10 quelle sul Lago d'Orta, 3 sul Lago di Mergozzo. Anche nel corso della stagione balneare 2021 verrà fatto un monitoraggio dei cianobatteri anche sul Lago Maggiore con lo scopo di prevenire eventuali rischi per la salute dei bagnanti. E torniamo a Cannobio che lo sapete quest'anno ha perso la bandiera blu, il sindaco annuncia il ricorso alla FEE e intanto evidenzia gli ottimi parametri ambientali vantati dal suo comune. Mancata conferma della bandiera blu a Cannobio, il sindaco annuncia la presentazione del ricorso alla FEE non appena l'amministrazione sarà in possesso delle motivazioni ufficiali delle esclusioni, ad oggi ancora non pervenute. Un ricorso che non consentirà di recuperare l'ambito vessillo per quest'anno ma che potrebbe far tornare a sventolare la bandiera blu nel 2022. Era già successo nel 2014. Ricordiamo che le spiagge Lido, Campeggio Internazionale e Campeggio Nosetto sono state giudicate eccellenti da Arpa a Piemonte, Buone le spiagge Ossidi Metallici e Orido di Sant'Anna negli ultimi 4 anni. Tali spiagge distano rispettivamente 750 metri e 3,6 chilometri dalla foce del torrente, esattamente a metà fra il Lido Parco e il Campeggio Internazionale, precise il sindaco Minazzi. Per questo motivo escludiamo che la causa della mancata assegnazione della bandiera blu possa essere dovuta alla minor qualità delle acque di balneazione del torrente Cannobino, peraltro già a tale livello negli anni scorsi in cui è stata assegnata la bandiera blu. Possiamo quindi affermare e ribadire con un pizzico di orgoglio, rimarca il primo cittadino, che tutto il litorale e la custa di Cannobio ha acque eccellenti. Lo stesso descrive un comune virtuoso da tanti anni rispetto a diversi altri parametri richiesti dalla FEE, dalla raccolta differenziata che supera il 75%, all'88% delle condotte allacciate alla pubblica fognatura, alla presenza di 12 chilometri di piste ciclabili interconnesse e altro. Ci chiediamo pertanto quali possono essere stati i motivi del mancato raggiungimento della bandiera blu per l'edizione 2021. A tal proposito, conclude Minazzi, abbiamo chiesto urgentemente alla FEE di conoscere quali sono le cause di tali esclusioni. Confermata invece, lo ricordiamo, la bandiera blu a Gozzano e Cannero Riviera uniche in Piemonte. Una grande soddisfazione per Acqua Novara VCO, commenta la di Daniele Barboni, che punta ogni giorno sulla questione della gestione sostenibile del territorio. Ci dispiace per la mancata riconferma di Cannobio Arona, ma vedere riconosciuto alle due località del Piemonte, delle nostre province di competenza, questo simbolo di prestigio ci spinge a fare sempre meglio in materia di educazione, informazione, qualità delle acque e gestione ambientale. Il vessillo di eccellenza sui fronti della sostenibilità viene assegnato incrociando diversi parametri. Non bastano l'acqua cristallina e una spiaggia sicura, c'è bisogno anche dell'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria e altro. E questa è la gestione sostenibile del territorio che ci piace, conclude Barbone, unita al grande desiderio di ripartenza dopo la pandemia. Ed ora torniamo sulla vicenda di via Tito Speri a Omenia, intervento della minoranza e abbiamo sentito anche la voce dei residenti. Sono in tanti a lamentare importanti disagi nell'ultimo anno e oltre. Proprio nei giorni scorsi l'amministrazione comunale attraverso il sindaco Paolo Marchioni ha assicurato che via Tito Speri verrà riaperta a giorni, altrimenti ci sarà un esposto in procura e interverrà la magistratura. Qual è la posizione da parte della minoranza? Poi sentiremo anche i residenti. Guarda, io sono venuto qua perché tante persone mi hanno chiesto di venire a vedere perché abbiamo persone anziane che arrivano da Cireggio e scendevano a Omenia per fare la sua spesa. Qui purtroppo c'è gente che deve arrivare, scendere, fare tornare, fare il giro di Cireggio per poi poter parcheggiare la macchina. Sono persone tutte anziane, anche tante persone che hanno la disabilità e non mi sembra caso. Io sono qua a chiedere, almeno sapere. Purtroppo so che il sindaco ha fatto una bella cosa a dire tutto. È un anno che avete tanti tanti disagi qui in via Tito Speri e in questa zona? Più di un anno. Non è un anno. Più di un anno? È quasi due. Sono quasi due. Quali sono i problemi più grandi che avete avuto in questi due anni? Diciamo che i problemi più grandi è che in combinazione con questa chiusura ci sono state anche altre chiusure dove la circolazione diventava quasi impossibile. Signora, un cantiere infinito, tra l'altro in questa via ha chiuso il supermercato, hanno chiuso altre attività commerciali, insomma, disagi ci sono per tutti, residenti, commercianti? Per me sono tanti disagi, perché uno è malato in casa e io devo fare un giro della miseria, devo passare dal dal tutto l'inverno. Vorrei sapere qualcosa in più, vorrei sapere almeno quando la aprono, quando la aprono. O almeno che ci lasciano aperta sto pezzo di via tirasegni. Certezze è quello che chiedete, no, voi residenti? Sì, la certezza perché noi dobbiamo fare il giro del cimitero, andare su a San Bernardo e scendere per posteggiare la macchina. Adesso c'è chiuso anche la via tirasegno. È più di un anno che va avanti questa storia? Ma qui è dall'inizio di luglio. Siete legittimamente arrabbiati? Credo, credo. Proseguono i lavori di manutenzione programmati da ANAS sulle pendici che costeggiano la statale 34 del Lago Maggiore. Da oggi attivo un cantiere di lavoro alle porte del centro abitato di Cannero Riviera procedendo in direzione nord per consentire l'esecuzione dei lavori che consistono nella pulizia del versante e nella sostituzione delle reti in aderenza e delle reti paramassi. Sarà in vigore il senso unico alternato nella fascia oraria 7-18. Il completamento dei lavori è previsto entro fine maggio. E andiamo ad Arona, esposto del Codacons sui lavori di sistemazione del muraglione della statale 33. Il Codacons, attraverso il presidente Marco Maria Donzelli, ha presentato un esposto per i lavori di ripristino del muraglione della strada statale 33 del Sempione che di fatto non partono. Il primo cedimento del novembre 2019 e quello più grave del 29 settembre 2020 non hanno trovato un tempestivo ma concreto intervento da parte di ANAS. Il tratto di statale è molto importante, non solo per la città di Arona ma per tutta l'economia dei paesi che si affacciano sul lago Sinastresa. Il Codacons si scaglia oltre che con l'ANAS anche contro l'amministrazione comunale e l'accusa di inerzia. Dice invece di approfittare della zona russa degli scorsi mesi con il traffico limitato per velocizzare i lavori e farsi ritrovare pronti all'aria apertura non si è fatto nulla. Ciò che preoccupa di più è il fatto che i lavori erano stati iniziati a causa di un cedimento della strada già nell'ottobre scorso a causa delle forti piogge verificatesi. L'interruzione dei lavori per così tanto tempo, oltre che recare disagi alla circolazione, potrebbe rischiare che l'effetto corrosivo dell'acqua piovana si propaghi in altri punti della strada, aggravando maggiormente la sicurezza di chi vi transita. A riguardo si è fatta avanti anche la contestazione di Alpi che ha presentato un'interrogazione per il prossimo Consiglio Comunale. Ad oggi però i lavori non sono ancora ripresi. Dalla direzione ANAS di Torino affermano si sta sviluppando il progetto strutturale del ripristino del muro lato lago lungo la statale del Sempione ad Aruna, sulla base del preliminare architettonico che è stato sottoposto al parere della Commissione Paesaggistica del Comune e alla soprintendenza e sono state ricomprese nel progetto definitivo le osservazioni pervenute. Il Sindaco Monti conclude se ad oggi il cantiere non è ancora partito non dipende dalla nostra volontà, in quanto siamo impossibilitati a intervenire su aree che non sono di competenza comunale, bensì di ANAS. Da parte nostra ci sono stati dovuti solleciti e l'attenzione anfichè. Finalmente tutto possa procedere celermente. Siamo agli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Nel VCO 30 nuovi positivi e 52 guariti. Nel Novarese 49 positivi e 65 guariti. Fermi decessi in entrambi i territori. In Piemonte 472 nuovi contagi pari all'1,8% dei 25.631 tamponi eseguiti. 15 decessi e 860 guariti. Ancora in miglioramento la situazione negli ospedali, meno 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 139, meno 118 i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.284. Una notizia di servizio dall'Asla VCO per una riorganizzazione delle sedi vaccinali. I cittadini che hanno effettuato la prima dose del vaccino anti-covid nei giorni dall'1 al 5 marzo presso l'ospedale Castelli di Verbagni effettueranno la seconda dose vaccinale al teatro maggiore nei giorni dal 17, quindi da lunedì al 21 di maggio. Sono stati inviati sms con intestazione Asla VCO contenenti le indicazioni della nuova sede vaccinale, della data e dell'orario previsto per la somministrazione. Sono in corso inoltre telefonate per comunicare l'avvenuta modifica della sede vaccinale. Siamo all'ultima puntata del Sasso nello Stagno che torna anche domani alle 14. Reflettori puntati sul disagio sociale legato alla pandemia tra gli anziani ma anche tra i giovani. Ospite della puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno è stato Antonio Attinà che dall'aprile scorso è presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte ed è responsabile per l'area socioeducativa minori e persone con disabilità nel Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. Attinà, forse abbiamo un po' sottovalutato la crisi che sta colpendo a causa di questa pandemia il mondo giovanile. Abbiamo parlato molto degli anziani, giustamente, ci siamo dimenticati dei giovani forse. Sì, il fatto che non avessero dei rischi così elevati ci hanno fatto pensare agli altri che avevano invece delle problematiche di tutela della salute ma in realtà dobbiamo assolutamente accendere i riflettori e anche in fretta su questa situazione, su questi ragazzi che sono stati parecchio tempo da soli, troppo tempo da soli, hanno perso anche i riferimenti scolastici che non sono solo didattici ma sono educativi e socializzanti. Restrizioni in Valle Grande per chi pratica l'arrampicata a tutela dei rapaci e in particolare dei loro nidi, regole che si protrarranno fino alla fine di luglio. Val Grande è vietata ai Kleinberg. La decisione è stata presa dall'ente Parco per tutelare Aquile e Falchi. Proprio questo periodo infatti coincide con l'anidificazione e la presenza degli scalatori potrebbe rappresentare un'azione di disturbo per i rapaci. E così il parco ha emesso un provvedimento che vieta temporaneamente l'accesso in particolare alla falese di arampicata situata tra Premosello e Vogonia, poco distante da Colloro, meta frequentata dagli appassionati di arampicata sportiva per la presenza di numerose vie, soprattutto adatte a rocciatori provetti. L'ordinanza che proibisce la frequentazione di questa zona si rifà ad una delle finalità del Parco nazionale, quella della salvaguardia delle specie animali e che prevede, già peraltro, il divieto di tutte le attività e le opere che possono compromettere la tutela del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat. Vietando ai rocciatori di accedere alla falesia si va a tutelare in particolare l'aquila areale e il falco pellegrino. Soprattutto il falco pellegrino, spiegano al Parco Val Grande, è molto sensibile alle attività che si svolgono presso le pareti rocciose. La rampicata sportiva costituisce la forma di disturbo più diffusa e impattante, poiché la presenza di scalatori nelle vicinanze di un nido comporta sovente l'abbandono dello stesso da parte degli adulti. Considerato il ciclo produttivo e il comportamento della specie, si ritiene pertanto, concludono dal Parco, di estendere la limitazione e l'attività di rampicata sportiva e di accesso all'aria fino al 31 luglio. Baveno ha presentato gli eventi dell'estate 2021 che cercano di coinvolgere un'ampia fascia di pubblico e che strizzano l'occhio al turismo di prossimità e ai giovani. Abbiamo deciso di scommettere perché comunque sia in questo momento come non mai bisogna dare un segno di ripartenza. Di conseguenza la scelta dell'amministrazione, che sa benissimo l'importanza del turismo in questa zona, non poteva che essere quella di ripartire e ripartire al meglio. Quindi siamo ripartiti con una serie di eventi di vario genere perché era importante farlo in questo momento. Ci saranno i classici mercatini, ci sarà della musica, ci sarà della cultura, il teatro, l'arte ce n'è davvero per tutti i gusti. Sì, abbiamo fatto un programma vasto di vario genere anche perché diciamo che il turismo è cambiato. L'anno scorso abbiamo visto che il turismo è variato, non era il solito turismo, abbiamo lavorato tanto anche con il turismo di prossimità che non c'era. Di conseguenza abbiamo fatto un'offerta più varia possibile di modo da accontentare veramente tutti. Sarà poi, sarà presentata prossimamente una app che informerà i turisti e i residenti in collaborazione con il Comune di Istresa. Proprio questa collaborazione con il Comune di Istresa è anche un ingrediente nuovo. Una bavino che guarda ai giovani, ai turisti giovani, come? Sì, abbiamo dall'anno scorso con la pandemia cercato di fare necessità virtù e quindi abbiamo pensato a una serie di iniziative che si rivolgano a un pubblico più giovane. La stagione museale La Pietra Racconta ha delle proposte musicali per i giovani con artisti del territorio che si proporranno nel corso dell'estate e in più in queste ore si sta svolgendo un progetto di comunicazione con Martina Socrate, una tiktoker molto famosa che ha scelto il Lago Maggiore per la sua tappa piemontese in una campagna che è sul social, in giro per l'Italia, si chiama Ti Racconto l'Italia. Quindi cerchiamo tutti i giorni di impegnarci per rinnovare l'attrattività della nostra località turistica e di tutto il nostro lago. Indetto uno concorso nazionale destinato a bambini e ragazzi per il recentenario di Gianni Rodari a Omegna e in attesa dell'inaugurazione del nuovo museo. Vediamo. Il ricentenario di Gianni Rodari prosegue con un'iniziativa abbastanza singolare, Assessore. Per esempio, 100 più 1, un concorso aperto a tutta Italia dove le persone possono mandare appunto dei testi, dei disegni e ci sarà poi una serie di manifesti, di cartelloni che verranno messi per la città. Al cuore di questa iniziativa è il fatto che in preparazione dell'inaugurazione del museo vogliamo fare eventi per la città, ma eventi che coinvolgano l'Italia intera, perché così deve essere. Direttore, quali sono le modalità di partecipazione a questo singolare concorso che vedrà poi artisti da tutta Italia partecipare e in qualche modo poi abbellire ovviamente Omegna nel nome di Rodari? Le modalità sono molto semplici, dovranno inviare bambini e ragazzi, quindi è un concorso aperto fino alle scuole secondarie superiori, dovranno inviare via mail il JPEG o il PDF con il proprio elaborato bidimensionale, quindi con l'immagine dell'elaborato, unitamente a un Word con una parte testuale, una parte testuale che dovrà ricalcare, utilizzare, sfruttare una delle tecniche raccontate da Gianni Rodari all'interno della grammatica della fantasia. Devono essere inviate via mail a info-rodari-parco-fantasia.it, lì ci sarà la nostra segreteria che poi passerà ad una giuria d'eccezione tutti gli elaborati. Questa giuria proverà a vedere quali saranno i 101 elaborati accompagnati dalla parte testuale più belli e più meritevoli che diventeranno manifesti in giro per Omenia. I primi quattro, cioè quelli che arriveranno primi per ogni categoria, sulla base delle quattro fasce d'età previste, saranno premiati con una cosa particolare, un'esperienza del tutto rodariano d'Omenia che includerà, si spera, la visita al museo. Saranno tra i primi a entrare nel prossimo museo Rodari di Omenia. Il basket in apertura di pagina sportiva domani alle 18 prendono il via i play-off della Paffoni. La Lega non concede la diretta TV, una scelta, dicono dalla società sportiva, quella di non consentire le dirette da parte della Lega, che riteniamo sbagliata e che rappresenta l'ennesima occasione persa per la promozione della pallacanestro ad un pubblico non elitario. La partita sarà in onda su VCO Azzurra TV in differita alle ore 20.30. Marco ci siamo, domani al via l'avventura play-off, l'avversaria del primo turno è Crema, che partita ti aspetti? Ma è sicuramente una partita tosta, una partita da play-off perché loro giocheranno con grande orgoglio, sicuramente cercheranno di ingabbiarci con i loro tatticismi e noi dovremmo farci trovare pronti, dovremmo essere pronti innanzitutto a difendere perché hanno tanti giocatori bravi, hanno tanti giocatori esperti che queste partite qui le hanno giocate e poi dovremmo trovare il modo per scartinare le loro difese tattiche. Abbiamo lavorato, dovremmo essere pronti, la sostanza è quella che però si dice sempre ai giocatori in questi momenti qua che noi l'obiettivo è cercare di batterli tre volte in cinque partite. Come ci arriva la squadra a questo appuntamento, a questa serie? La squadra arriva in buono stato di salute e anche mentalmente siamo pronti, nelle ultime partite c'è stata grande consapevolezza, io uso questo termine qui, è grande autostima, è cresciuta, abbiamo fatto delle ottime vittorie anche in campi molto difficili come quello di San Mignato e al cospetto di squadre forti come Chiusi che ha vinto la regular season, per cui la squadra è pronta, sa quello che deve fare, adesso bisogna avere la pazienza di giocare partita dopo partita e resettare dopo ogni gara perché ogni partita successiva sarà ricca di nuove insidie. Non è stagione ma si continua a lavorare anche sul fronte degli sport invernali, nuovo progetto tecnico per la categoria giovani nel Comitato Fisi VCO. La prossima stagione sciistica è ovviamente ancora molto lontana ma gli uomini del Comitato Fisi del VCO già si stanno muovendo per far sì che tutto possa funzionare per il meglio. È proprio da questo intento che nasce Ski VCO, un nuovo gruppo che si propone di riunire tutti gli atleti della categoria giovani e tutti i sodalizi affiliati al medesimo Comitato Provinciale. L'idea nasce dalla necessità di dare continuità all'attività dei ragazzi. I tanti sci-club del VCO focalizzano la maggior parte della loro attività nelle categorie baby e pulcini, nelle quali tesseramenti sono ancora di grande numero e l'attività stessa viene svolta in ambiti di gare nel comprensorio provinciale. Una volta superata la fascia d'età, gli atleti arrivati nella categoria giovani iniziano a partecipare ai circuiti Fisi che invece si svolgono prevalentemente fuori provincia e sono ovvia conseguenza sia l'aumento delle spese sia dell'impegno che dureranno per 5 anni. Da qui il progetto Ski VCO che vede la luce per favorire il proseguimento dell'attività degli atleti e sarà operativo dal prossimo novembre, quando prenderà in via l'annata sciistica. Gli sci-club potrebbero proseguire con i loro atleti a livello personale, dicono i membri del comitato, ma nel passato si sono evidenziate varie problematiche che hanno suggerito la creazione di un gruppo unito che possa comprendere gli atleti di vario livello e di varie caratteristiche tecniche con il requisito di voler cercare il raggiungimento degli obiettivi personali. I ragazzi e le ragazze gareggeranno ovviamente con i colori del proprio sci-club di appartenenza, ma facendo parte di un unico gruppo sotto l'insegna di Ski VCO. I sodalizi provinciali che hanno aderito al progetto sono ad ora il centro agonistico Domo Bianca, il Revolution Ski Race, Sciclèb San Domenico, Sciclèb Formazza, Sciclèb Valle Antigorio, Trubi Ski Team, Sciclèb Macunaga e Ossola Ski Team. E siamo in chiusura di edizione di TG per gli aggiornamenti vcoazzurativu.it e le nostre pagine social. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona domenica.